La vedete questa ragazzi? Questa è Curve, una carta di cui vi ho parlato tanto tempo fa e vi lascio il link qui nelle info e in descrizione qualora vi foste perso quel contenuto perché questa non è oggetto specifico di questo video però insomma da quel momento in poi l'ho sempre utilizzata e ne vale veramente la pena tra le altre cose se doveste usare il mio codice che trovate qui sotto in descrizione potete ricevere 5 euro da spendere per i vostri acquisti ovunque voi vogliate perché questa non è una carta di credito o una carta di debito è praticamente un proxy ovvero che cosa? Beh vi permette di unire tutte le vostre carte dalle carte di credito alle carte di debito in un'unica carta così che voi vi dobbiate portare solo questa e poi il tutto è gestibile ovviamente dall'applicazione sul telefono ma non voglio dilungarmi ovviamente ho preso questa carta come pure esempio anche perché è quella che utilizzo di più in Italia c'è un certo scetticismo a utilizzare le carte non per quanto riguarda l'online dove è obbligatorio praticamente pagare in questo modo o anche con altri sistemi come può essere Paypal o tanti altri ma mi riferisco soprattutto ai pagamenti digitali quando si va a fare la spesa si va dal tabaccaio si va in qualsiasi altro posto una farmacia insomma tutti i negozi fisici ci sono svariati motivi per i quali molte persone non amano o non vogliono utilizzare i pagamenti con carte di credito o di debito alcuni e sicuramente ci saranno qui sotto nei commenti perché i complottisti sono ovunque ah beh lo Stato ci vuole controllare tutti ci vogliono controllare non c'è più privacy su questo concetto ragazzi mi troverete sempre in disaccordo perché noi come cittadini abbiamo il dovere morale di pagare le tasse e l'unico modo per farlo è pagarlo quantomeno in maniera tracciabile i pagamenti tracciabili sono i bonifici sono gli F24 per le tasse sono le carte di credito o di debito ovviamente bisogna far sì che anche l'esercente dichiari questa cosa dandovi lo scontrino ma questo è sottointeso quindi non vedo nessuna violazione della privacy perché se tutti noi dovessimo pagare le tasse beh le tasse potrebbero scendere leggermente questo più o meno è il concetto generico molto indicativo senza entrare nel politichese che non mi interessa e che non voglio fare qui sul canale ma allora perché vi sto parlando di questo? beh perché lo Stato sostanzialmente vuole dare un giro di vite al contante quindi evitare che la gente utilizzi il contante il più possibile non lo può quindi eliminare questo no ma ci vuole dare un incentivo per così dire all'utilizzo di queste carte il decreto è di agosto se non ricordo male ma potrebbe entrare in vigore già da dicembre e voglio subito sfatare un mito che sta girando in rete lo Stato ci regala 3.000 euro lo Stato ci regala 5.000 euro lo Stato ci regala no nessuno regala niente in realtà in un certo senso si usa la tecnica del cashback quello che molte carte di credito già hanno che cos'è il cashback sostanzialmente dopo un acquisto di un qualsiasi bene, servizio o prodotto viene riconosciuta una percentuale di sconto per così dire torna indietro una piccola parte ad esempio quella carta che avete visto prima con Curve è possibile avere l'1% di cashback su tre esercenti ho messo ad esempio EasyJet, Amazon e non ricordo quale sia il terzo forse qualche azienda per cibo d'asporto insomma poco importa e questa è la base della teoria del cashback utilizzando questa struttura logica lo Stato ha detto beh se tu cittadino utilizzerai la carta di credito la carta di debito per i tuoi acquisti in negozio attenzione non online ma in negozio fisico allora ti riconoscerò uno sconto ti ridarò indietro parte di quello che hai speso e la percentuale in realtà è interessante perché è il 10% è per questo motivo che girano in giro voci come lo Stato vi dà 3.000 euro perché in realtà 3.000 euro è un dato importante per quanto riguarda questo tipo di riforma infatti 3.000 euro sarà il tetto massimo raggiungibile in acquisti non è il cashback ovviamente e il 10% dei 3.000 euro che voi potrete spendere sono 300 euro quindi in maniera molto pratica a fine anno riceverete i 300 euro non di più questo è un limite ma siamo già al secondo limite come potete vedere ma sinceramente non trovo nulla di male il primo è legato al dove acquistare infatti non online ma soltanto in negozi fisici dove effettivamente il contante può girare online il contante non gira e seconda cosa un tetto massimo di 3.000 euro quindi scordatevi di spendere 10.000 euro per un motivo o per un altro magari compro la macchina direttamente con la carta di credito qualora avessi probabilmente una carta di credito senza tetto ma questo è un altro discorso e sperare di ricevere indietro 1.000 euro ecco questo non succede e non succederà avremo indietro quindi quei nostri 300 euro su un massimo di 3.000 però attenzione c'è un altro limite importante ovvero non verrà applicata su ogni singola transazione ma soltanto al raggiungimento di 50 operazioni al semestre ne consegue ovviamente che l'idea del governo sia anche quella di farvi comprare ogni singolo caffè con carta di credito infatti queste 50 transazioni che dovremmo fare non importa se saranno un caffè un computer da gaming alla volta insomma veramente non importa la tipologia a pensarci bene queste 50 transazioni non sono nemmeno impossibili già solo facendo una spesa a settimana andando a prendersi la colazione qualche volta le varie spese impreviste che ci possono essere tra farmacia e quant'altro insomma è fattibilissimo arrivare a quel numero di transazioni e voi mi direte sì ma nessun esercente qui da noi magari accetta il pagamento di un caffè con carta di credito ecco questo è un punto dove il governo sicuramente deve fare qualcosa e già stanno parlando di togliere completamente le commissioni su cifre inferiore a 5 euro quando si paga con carta di credito il che non sarebbe male sebbene io e questo lo dico titolo totalmente indicativo e come mia opinione troverei più sensato togliere le commissioni sotto i 25 euro non i 5 euro perché 25 euro è il tetto massimo per il pagamento contactless quindi troverei più logico e sensato utilizzare quella come soglia e non 5 euro che sono veramente pochi però insomma questa è una mia opinione e fino ad ora abbiamo visto la parte un po' più semplice di questo decreto quindi un massimo di 3000 euro di spesa utilizzare carta di credito o carta di debito è indifferente 50 operazioni semestrali perché il bonus viene dato semestralmente e che non importa ovviamente che tipologia di prodotto si acquisti ma nel decreto sono previste altre due cose che sono un po' parte della gamification di questo decreto ovvero quel lato di gioco quasi che permetterà di accedere a diversi bonus extra il primo è una lotteria sugli scontrini e praticamente entreremo tutti a far parte di una grossa lotteria semplicemente acquistando un prodotto perché il nostro scontrino verrà registrato come biglietto della lotteria curiosa come idea ci può stare non costa niente a nessuno insomma va bene così ci sarà poi un super cashback e qui la cosa è abbastanza divertente però insomma interessante ovvero un premio massimo di 3000 euro ai primi 100.000 italiani che useranno le carte di credito a bomba cioè quelli che praticamente faranno più acquisti in assoluto con carte di credito riceveranno un super bonus ecco questo è l'unico aspetto che personalmente non mi è piaciuto di questo decreto sebbene sia semplicemente un gioco non lo trovo in linea e corretto con la situazione anche economica italiana sarà molto più semplice per i ricconi di turno entrare a far parte di questo super cashback perché loro magari acquistano qualsiasi cosa ogni giorno con carta di credito da caffè a un prodotto tech a un vestito di marca insomma tante operazioni che un cittadino normale probabilmente non può fare quindi se devo dire la verità questo lato lo considererei come totalmente superficiale e inutile preferirei magari che quella cifra la mettesse a disposizione per aumentare il budget di questo decreto che ovviamente non è infinito ci si dovrà registrare per partecipare diciamo a questa specie di concorso che poi in realtà concorso non è ma per ora non ho ancora informazioni specifiche da darvi ultima cosa molto importante perché questa è una domanda che mi sono fatto anch'io ovviamente il cashback è a titolo totalmente individuale quindi non è a nucleo familiare vi consiglio quindi in quel caso eventualmente di creare una sola carta di debito o credito che utilizzerete in famiglia intestato a uno di voi per far la spesa acquistare bene prima necessità e qualsiasi altra cosa così da accumulare perché è molto difficile magari in una famiglia che non ha neanche tanto reddito raggiungere quelle 50 operazioni pensate apposta per questo decreto a meno che voi non vi comprate un caffè al giorno e a quel punto non ci sono problemi beh ragazzi ora voglio sapere cosa pensate voi di questo decreto se trovate sensato questo discorso dal mio punto di vista eliminare il contante è utile per tanti motivi non è solo questione di nero il contante di per sé costa allo stato ci sono tantissimi video che vi spiegano perché una singola banconota va a costare allo stato e crea un debito sostanzialmente perenne quindi ridurre il contante sicuramente aiuta già le casse dello stato la seconda cosa è il nero che è un tema molto difficile da trattare in italia quindi vado coi piedi di piombo sicuramente per quanto mi riguarda lo reputo un po' al male della nostra nazione so anche che il nero in certe situazioni è anche tollerato perché posso capire che ci siano situazioni veramente brutte nel nostro paese sperando che le cose possano migliorare quindi visto che ho parlato veramente fin troppo lasciatemi un commento qui sotto se avete qualcosa da aggiungere a questo decreto se avete la vostra opinione parliamone molto chiaramente e tranquillamente e mi raccomando lasciate fuori i complottismi perché chiunque arrivi qui con complotti di ogni tipo dai servizi segreti a chissà che cos'altro verrà bannato letteralmente perché quella non è libertà di parola quello è solo voglia di creare caos detto questo così patti chiari e amicizia lunga io vi saluto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto iscrivetevi al canale